e poi dopo la lancia forse potrebbe essere scattato si sblocca anche Fabiano De Casperis e oggi ventesimo arriva 2 a 0 anche in dove si sblocca Fabiano De Casperis mi è servita una palla sul piatto d'argento davanti alla porta lui arriva scivolata non può fare altro che metterà nel sacco per il 2 a 0